Ieri il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che la Cassa Integrazione verrà prolungata di quattro settimane. Il solito pagliativo, aspirina per curare un tumore della disoccupazione. Ancora una volta il Governo mostra di non comprendere la reale situazione che sta vivendo il nostro Paese. I soldi della Cassa Integrazione in deroga non arrivano, chi può li anticipa ai suoi dipendenti, chi non può li ha già avvertiti. Quando si interropperà il blocco verranno licenziati. Una situazione drammatica con all'orizzonte un autunno caldissimo, con licenziamenti a catena, blocchi stradali, manifestazioni di studenti e lavoratori. Bene, in mezzo a tutto questo c'è invece chi assume. È il nostro caso, penso unico nel mondo dell'editoria. Vale la pena raccontarla questa storia. Il protagonista è Elisa che negli ultimi due anni di liceo è venuta da noi per fare uno stage curricolare. Ha aiutato in segreteria e siamo rimasti molto contenti dal lavoro svolto. Finiti gli studi l'abbiamo richiamata e le abbiamo proposto uno stage di sei mesi. Una volta scaduti l'assunzione come apprendista. Ma per farlo occorre andare a Monza all'ufficio dell'impiego. Elisa ci è andata, le hanno fatto firmare una marea di carta ma poi l'hanno rimandata indietro. Non funzionava il terminale. Non può essere assunto, la chiamiamo noi. Dovrà ritornare qui per firmare altri documenti. Siamo alla follia. Al posto di spianare la strada a chi assume si mettono vincoli e paletti di tutti i tipi. La maledetta burocrazia. Ma non bastava un'autocertificazione e pronti partenza via. È qui, caro governo, che bisogna incitere. Nei meccanismi di entrata e uscita dal lavoro che devono essere agili e flessibili per poter permettere al lavoratore e agli imprenditori di assumere e licenziare in funzione delle mutate condizioni del mercato. Questa è la vera riforma. Questo è il vero lavoro agile. Il resto sono solo, come dice il commissario Montalbano, grandissime minchiate. Buona giornata a tutti.